La vostra partecipazione comprende anche una serie di riconoscimenti e di possibilità che date ogni settimana per i prossimi due mesi fino alla fine di novembre. Certamente, ogni settimana verrà selezionato un artista o gruppo a seconda dei casi ai quali daremo l'opportunità di usufruire di una serie di tutoring all'interno del nostro centro sviluppo artisti qui presso la nostra sede in zona roveri. Siamo a Bologna, zona roveri, è la zona industriale di Bologna subito alle porte del centro. Esatto, una zona dove noi possiamo rumoreggiare liberamente sabato, domenica, notte, quando ci pare. Quindi molto utile in questo senso. Ok, quindi il rapporto con l'oro inizia adesso, tante possibilità, tanti premi e riconoscimenti che si aggiungono a quelli precedenti. Andate sul sito www.tienilpalco.it, la piattaforma lo potete iscrivervi gratuitamente fino al 15 ottobre. Le selezioni per i primi sabati sono già fatte, però rimangono ancora tanti posti liberi, quindi c'è la possibilità ancora di partecipare sempre gratuitamente per esibirvi un quarto d'ora con la vostra canzone, la vostra musica, il vostro repertorio e la vostra voglia di suonare. Grazie per la visione!